la nostra banda. Poi sono entrati anche i ragazzi, vorremmo anche farli entrare tutti insieme, insonare con un bel gruppo. Qualche manifestazione insieme. C'è la collaborazione di qualche associazione? Certo. E siete qui. Magari più avanti a gennaio, ci ritroveremo, ne parliamo più di quello. Ok. Il PMI riceverà la richiesta della comunicazione del rappresentante dell'Agro all'interno della Commissione. Sì, non volevo essere nepprovo. Abbiamo parlato al nostro interno perché io so che la comunicazione è stata fatta la mia pagina, potremmo arrivare anche in modo discepato, anche la mia pagina. Anche la mia pagina. Chi non ha ricevuto la comunicazione, già che ci siamo, per far parte della Commissione di Biblioteca. La stiamo rinnovando, quindi non è ancora. Allora, se c'è quanto no, è arrivata? Sì, è qui, va tramite me, è arrivata. Sì, lui ce l'abbiamo. Lui sì.